È sufficiente dare un'occhiata al grafico delle curve di contagi e decessi per capire che non solo la fine dell'epidemia di coronavirus è ancora lontana, ma anche che è fondamentale avere il massimo senso di responsabilità e di attenzione per contenerne una ripresa nella fase 2. Poche ma essenziali le norme da osservare, mascherine, distanza sociale, niente assembramenti, accorgimenti semplici per tutti, anche per chi crede di essere immune del contagio. I numeri lo lasciano intendere chiaramente. Con i 7 decessi di ieri il totale sale a 925. 925 persone che hanno perso la vita a causa del covid-19. 14 i nuovi casi di positività che raggiungono così quota 4.375. In Emilia-Romagna dall'inizio dell'epidemia di coronavirus le infezioni sono quasi 27.000 mentre i tramponi effettuati sfiorano i 235.000. Segnali positivi dalle guarigioni, 16.000 in tutta la regione, mentre continuano a calare i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi ad oggi, 151 in meno rispetto al giorno precedente, per un totale di 7.000. In calo anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono poco più di 4.700. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, sono 141 in tutto e anche quelli ricoverati negli altri reparti covid.